La risposta del Ministero della Salute, che probabilmente ha deluso le aspettative di chi aveva quasi dato per acquisito il riconoscimento di ospedale di zona disagiata per il fratelli Parlapiano di Ribera, rimette al centro il dibattito sulla necessità di guardare a prospettive più realistiche per il futuro. Per il coordinatore del Comitato Civico per la Sanità, Franco Giordano, questo è possibile solo se si tiene conto di una serie di variabili indicative di modelli di assistenza che è sempre meno possibile assimilare alla proliferazione di ospedali. Mi pare eravamo stati profeti troppo tempestivi quando abbiamo denunziato che le strade indicate, pur se emotivamente comprensibili, non portavano da nessuna parte. Bisogna tornare a una sanità che guardi in faccia la realtà, che si confronti con le risorse economiche di personale disponibili e che organizzi la sanità in maniera seria spiegando alle comunità che non si può avere tutto ovunque, ma bisogna avere ciò che serve, laddove si può fornire l'assistenza migliore e smetterla con queste campagne che dal punto di vista delle opinioni e della mobilitazione delle persone possono avere un risultato, ma che non ci daranno mai una sanità di qualità e adeguata ai bisogni delle nostre popolazioni. Tra le variabili più significative quelle demografiche. Noi abbiamo la metà delle nascite della fine degli anni Ottanta e una popolazione anziana che aumenta sempre di più perché grazie a Dio si vive di più e si vive meglio, ma in questo meglio noi dobbiamo considerare che chi vive al sud ha un'aspettativa di vita rispetto a persone della stessa età del nord di almeno tre anni in meno. Quindi il problema nostro è quello di avere strutture sanitarie moderne, di qualità e disponibili sul territorio. L'invito di Giordano è ad abbassare i toni, a fare conti con la realtà. Questa idea di puntare tutto sull'assistenza ospedaliera, perché l'ospedale dovrebbe rispondere soprattutto è una idea antiquata, dannosa per le stesse popolazioni che vengono spesso invitate a mobilitarsi senza dirgli bene su che cosa, è dispendiosa perché gli ospedali costano, costano tanto, per cui non se ne può inventare una a secondo delle esigenze politiche di Tizio o di Caio. Quindi secondo me l'invito che io farei a tutti, cittadini, esperti, professionisti, politici, è quello di abbassare i toni, essere meno perentori nelle proprie convinzioni. Sciacca ha bisogno che il DEA di primo livello funzioni, ora è subito e questo pur nel quadro di una battaglia che lo stesso Avvocato Cucchiara non ha minimizzato, come quella dell'Associazione Capurro per il ritorno all'azienda ospedaliera. Quando noi abbiamo fatto una battaglia perché l'ospedale diventasse e si potenziasse come ospedale per l'emergenza e per le emergenze, intendiamo dire proprio questo, utilizziamo le risorse che abbiamo per dare delle risposte di qualità e tempestive nell'area delle emergenze. Per Franco Giordano l'assistenza ospedaliera per come ci si ostina ancora a concepirla è ormai un modello antiquato, Giordano fa l'esempio dei punti nascita. Non si possono tenere in vita punti nascita con meno di 200 nascite l'anno, sciacca abbiamo mantenuto il punto nascita in maniera abbastanza risicata, semplicemente perché le nascite si sono stabilizzate su valori intorno alle 500 nascite annue, ma promettere di mantenere un punto nascita dove ci sono meno di 200 nascite l'anno, spostando i pediatri da un ospedale all'altra. Questa non è qualità, la medicina non si fa con il medico che si trasferisce per una notte o due notti la settimana da sciacca a Canicattì oppure da Licata a Grigendo. La medicina è un lavoro di gruppo in cui si discute quotidianamente su come organizzare il lavoro. Non è il medico né gettonista né anziano chiamato indietro dal pensionamento, né il medico che viene da Sud America che può risolvere i nostri problemi. Infine il coordinatore del Comitato Civico per la Sanità ripropone l'antica insidia sul sistema della sanità privata. Come possiamo convincere i medici a lavorare nel pubblico? Ebbene, questo è un tema che lei solleva spesso, il tema della sanità privata, i medici quelli che intendono lavorare bene emigrano o nel nord oppure all'estero. Le strutture territoriali vengono considerate strutture secondarie e il criterio della qualità. L'eccellenza si basa sulla ricerca. C'è un po' un limite culturale da parte della comunità? Certo che c'è un limite culturale e la responsabilità in questo caso è degli addetti ai lavori innanzitutto. Manca in maniera clamorosa quella borghesia che costruisce le opinioni, che dovrebbe essere in prima linea nel rivendicare percorsi praticabili, intelligenti e smetterla col fumo.